Buongiorno a tutti i miei piccoli rubini e rubinetti, oggi parliamo di una saga che io ho rivalutato una saga che mi è piaciuta veramente tanto il primo volume l'avevo letto quando era uscito però poi non l'ho abbandonato mi è ritornata la voglia di leggerlo, non chiedetemi perché per come e quindi sono qui per parlarvene come al solito è arrivata alla fine di questo video, commentate, like, condividetelo una preghiera a Sant'Antonio, grazie la saga in questione è la saga del sepolcro sigillato, quella di Gideon la prima volta l'avevo letta, non mi aveva convinto, poi l'ho venduto, mannaggia a me si vede che non era il momento adatto e quindi ho provato a rileggere l'altro l'ho ricomprata, l'ho riletta in vista poi dell'uscita del terzo ma andiamo per gradi l'estra che è composta da Gideon la nona, che è il primo il secondo che è Arro la nona, che è al momento il più grosso e il terzo che è Nona la nona allora, che cosa è successo? la Cara Tamsin voleva scrivere una trilogia quindi Gideon, Arro e Alekto questo è praticamente il primo atto di Alekto la nona ma l'agente della Tamsin le ha detto facciamolo uscire come volume unico perché se già questo è il primo atto, che sono 470 pagine cioè Alekto diventa praticamente più lungo di Guerra e Pace quindi facciamolo uscire come terzo volume che sarebbe in qualche modo in preparazione a quello che avverrà in Alekto che io sinceramente, sinceramente non osi immaginare perché questa saga è di un'imprevedibilità assurda e quindi niente, l'ha fatto uscire come volume unico in italiano ovviamente Nona la nona ne che rende tantissimo la copertina è favolosa e questo libro l'ho amato tantissimo quindi questo è la situa quando uscirà Alekto non si sa sinceramente perché la Tamsin non è molto social quindi non so sinceramente quando, come e perché un giorno ci ritroveremo la, come si dice la notizia e staremo tutti in un brodo di giugiole spero che esca quest'anno perché veramente, veramente sì e quindi da tre volumi sono quattro parliamo della traduzione allora i primi due sono stati tradotti da Francesca Crescentini che ha fatto un ottimo lavoro io credo che abbia fatto veramente un lavoro proprio abbastanza complicato perché penso che in inglese non sia facile come inglese insomma, poi ci sono anche delle cose gergali eccetera eccetera quindi penso che abbia fatto veramente un lavoro molto molto importante il terzo è stato tradotto da un certo Giovanni Gabriele Giorgi perché lei ha avuto dei problemi personali e quindi non ha potuto curare la traduzione questa cosa si sente tantissimo e onestamente è un peccato perché questo cambio di traduzione si sente proprio sebbene personalmente nella mia ignoranza Giorgi non ha fatto un brutto lavoro però si sente proprio che manca proprio quella cura quel dettaglio che ci aveva proprio la Crescentini quindi i primi due sono tradotti dalla Crescentini gli ultimi due e quindi anche Alekto perché a sto punto non penso che lo daranno in mano a qualcun altro ha tradotto tradurrà anche Alekto la nona quando uscirà, ripeto, non lo so sarà tutto un mistero della fede un giorno la Tamsin ci dirà questa cosa sinceramente il fatto che lei non sia tanto social mi dà tanto da pensare o secondo me lei si è tolta perché ha ricevuto tantissimi insulti e tantissime cose o dei social non li ne frega niente ma secondo me è la seconda perché questa è una saga molto molto controversa e molto molto forte quindi secondo me il fatto che lei non ci sta sui social è dato proprio da quel fatto lì però non lo so non sono vicino di casa della Tamsin quindi non lo posso dire primo volume della come si chiama la saga aspettate del sepolcro sigillato siamo nella nona casa una casa fatta di morte e di negromanti e un giorno Arro chiama la nostra cara Gideon e andranno sulla prima casa perché l'imperatore ha deciso di fare questa sorta di torneo tra mille virgolette dove verrà eletta la Littricue e quindi Arro sebbene non sopporti Gideon in alcun modo devono collaborare quindi partono alla vista della nona casa dove sono riunite tutte le nove case dove appunto ci sarà questa sorta di torneo e solo uno vincerà ma incominciano a succedere delle cose un po' strane incomincia ad alleggiare qualcosa di molto molto brutto all'interno di questa prima casa e infatti insomma succederanno cose abbastanza complicate che porteranno poi ad un risvolto inaspettato allora a parlare questa è la trama a parlare del world building è veramente molto difficile ci troviamo in questa sorta di universo dove ci sono delle appunto queste nuove case c'è questo dio però diciamo che queste sono le informazioni che abbiamo nel primo che è una narrazione ovviamente è tutta nella parte interna quindi abbiamo solo degli spazi chiusi non sappiamo quello che effettivamente c'è fuori che scopriremo poi con Arro e questo libro diciamo che dei tre è quello che si riesce a capire molto bene nel senso la Tamsin ci introduce il mondo ci introduce i personaggi noi andiamo alla prima casa cominciamo a conoscere altri personaggi eccetera eccetera e insomma c'è questa sorta di mistero da risolvere diciamo così per poi arrivare alla conclusione però diciamo che si riesce in qualche modo a barcamenarsi cioè a capire i personaggi a capire quello che sta avvenendo ovviamente capi il world building e capi insomma tutto il resto è un po' difficile ripeto perché proprio la narrazione è all'interno quindi riusciamo a barcamenarci finito Gideon ovviamente voi leggete Arro la Nona Arro la Nona è veramente folle questo sì che voi non riuscite a capire nulla tant'è che se volete iniziare questa saga vi consiglio di leggerla innanzitutto uno dietro l'altra quindi un volume dietro l'altro ma poi in un periodo dove voi non state facendo particolarmente nulla perché dovete essere veramente molto molto concentrati allora la peculiarità di Arro è che utilizza la seconda persona singolare cosa che non è stata fatta al di fuori della Genesine quindi questo questo utilizzo stilistico della seconda persona vi può lasciare un po' così sinceramente se non siete abituati però sinceramente io avendo già esperienza con la Genesine non mi ha particolarmente dato fastidio come vi dicevo se in Gideon non sapevamo del mondo insomma quant'altro qui abbiamo qualche informazione in più e ovviamente la storia continua quindi abbiamo altre informazioni abbiamo un trip assoluto perché non si riesce a capire nulla finché poi tutto torna quindi c'è una sorta di confusione però poi si arriva ad un punto e devo dire che questo libro l'ho trovato assolutamente geniale mi è piaciuto tantissimo mi sono piaciuti i personaggi mi è piaciuto anche il mondo creato da Tamsi che è qualcosa di veramente folle originale è una storia imprevedibile è una storia che ti porta anche a fare delle teorie perché fondamentalmente io ero lì che dicevo oh mio dio devo fare la teoria che succede di qua e di là e quant'altro e tu arrivi alla fine di questo libro con un cerchio alla testa e tu dici benissimo io dopo un primo o un secondo posso aspettarmi qualsiasi cosa mi aspetto qualsiasi cosa quindi tu cosa fai? prendi nonna la nonna e continui no in questo trip dove non capisci non capisci nulla allora qui si cambia diciamo scenario siamo in un contesto molto distopico diciamo così e in un contesto dove anche qua cosa sta succedendo non capisco non riesco a capire tra l'altro ci sono anche dei riferimenti alla Bibbia ci sono è diviso in giorni noi conosciamo nonna chi è nonna lo scoprirete solo vivendo e è assurdo è veramente assurdo cioè io ho fatto anche dei bigliettini dentro le teorie ma ma allora questo questo è quello quello fa così cioè ti porta proprio a lambiccarti il cervello e a riuscire a capire cioè è molto anche stimolante è un elettro stimolante perché ti porta proprio a a fare delle non dico delle teorie ma comunque a mettere insieme tutti i pezzi però poi alla fine insomma la confusione regna sovrana e ritorni punto a capo quindi diciamo che la peculiarità di questa saga sta proprio nell'essere molto originale perché non riuscirei a trovare i termini di paragone in merito a questa saga è una saga che ha bisogno di tanta concentrazione tantissimo soprattutto il secondo non tanto neanche questo perché questo comunque alla fine insomma ritornano dei personaggi del secondo e quindi tu riesci in qualche modo a però il secondo richiede tanta concentrazione richiede veramente di mettersi lì a riuscire a capire trovare eccetera eccetera è una saga che come vi ho detto non ha in termini di paragone è una saga che secondo me è eccezionale cioè io arrivato a non alla nona che poi rileggerò perché ho bisogno di una rilettura non so cosa possa avvenire cioè ha letto la nona io non io alzo le mani io non 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 posso fare delle teorie posso dire ma sarebbe tutto inutile sinceramente quindi questo è il quadro della situa allora ultima cosa erano state annunciate delle flessibili le flessibili che al momento su amazon non si trovano non lo so cioè nel senso si trova forse il primo ma il secondo da ancora i book è rigida quindi non lo so che cosa è successo io per ovvi motivi non scrivo alla casa editrice per perché sono successe cose però se voi avete la possibilità di chiedere informazione fate pure un consiglio recuperatela in rigida se la trovate ancora perché comunque non alla nonna chissà mai se uscirà in flessibile quando onestamente quindi io l'ho recuperata in rigida proprio perché queste flessibili dovevano uscire quest'estate poi hanno cambiato le cose bla 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 è successo un po' un caos quindi ho preferito recuperarle in rigida ma in flessibile comunque hanno dei prezzi un po' più accettabili nulla leggetela io l'ho rivalutata sto aspettando arro cioè sto aspettando scusate ha letto la nonna spero che esca quest'anno veramente perché devo assolutamente e nulla fatemi sapere se l'avete letta se vi è piaciuta cosa vi è piaciuto fatemi sapere tante cose perché veramente io io ho scaricato le fan art a qualche parte ho trovato le fan art cioè una roba che io non facevo faccio solamente rare volte io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao